ciao e benvenuti in un nuovo video fova channel oggi è venuto a trovarci roberto savio attualmente fotografo con un grandissimo passato in importanti agenzie di comunicazione tocca presentarti ciao a tutti grazie marco sì mi sono occupato di comunicazione per parecchi anni ahimè sempre sempre di più oltre una trentina come direttore creativo dell'agenzia e ho sempre seguito soprattutto la parte visual diciamo come tipo di come linguaggio di comunicazione e da una decina d'anni a questa parte ho deciso di dedicare le diciamo le energie e la parte consulenziale oltre che la parte di produzione di contenuti sul mondo del food e quindi ho ripescato diciamo le mie le mie competenze in ambito fotografico ti sei spostato da da dirigere un set a spostarti effettivamente dietro la camera esatto esatto io ero quello che stava vicino al cliente che ricepiva le informazioni del cliente desiderata e che trasmetteva poi al fotografo di turno tutte le informazioni che era necessario contemporaneamente ho sempre portato avanti la mia attività fotografica diciamo personale e adesso invece questa questo tipo di diciamo di attività è diventata forse l'attività principale anche se continuo comunque a lavorare sempre in consulenza ma diciamo che la parte fotografica sicuramente ha preso una grande uno grande spazio nella mia attività professionale parte fotografica specialmente nel food come mai questa passione ma perché io nel corso degli anni ho lavorato per tantissimi settori merceologici però sempre avuto la passione del cibo arrivo da una famiglia di cuochi di grandi grandi gourmet grandi appassionati di cucina conoscitori della materia quindi per me sin da piccolo così come avevo la macchina fotografica in mano avevo anche il mestolo la pentola in mano eccetera quindi a un certo punto è arrivato un momento in cui ho capito che le due cose potevano essere unite e quindi ho cominciato a lavorare appunto nel settore del food significa lavorare sui prodotti legati al mondo del cibo e i luoghi di somministrazione che sono i ristoranti in cui il cibo poi viene servito attualmente stai lavorando su qualche progetto ne hai chiusi sei in corso cosa stai facendo progetti ce ne sono chiaramente tanti c'è un progetto continuativo a cui sono molto affezionato che è un progetto di fotografia stereoscopica allora noi cercavamo un modo per superare la barriera della bidimensionalità nell'immagine fotografica del food dato che il nostro dico nostro perché ho un gruppo di lavoro con me fortunatamente sono un fotografo fortunato ho tanta gente che lavora con me perché deriva un po dalle impostazioni di agenzia che mi sono portata avanti nel corso degli anni e lavoriamo su questo progetto di stereoscopia che si chiama stereoscopic food dove abbiamo cercato di far saltare fuori l'elemento tridimensionale rispetto al piatto non soltanto al piatto finito ma anche la materia prima e anche anche i luoghi di somministrazione eccetera questo per riuscire a dare al cibo la collocazione visiva migliore del migliore possibile fruizione il nostro motto è assaggiare il cibo sentire il cibo prima di averlo assaggiato l'obiettivo della nostra fotografia è questo è quello che mi sono scritto su un pezzo di carta quando incominciato a lavorare sul sul food detto vorrei che le mie fotografie servissero per far sentire testing in inglese quindi far sentire il cibo prima di averlo ancora assaggiato questo è l'obiettivo il 3d quindi la stereoscopia fa uscire ci aiuta moltissimo perché ci consente di è stato uno studio che abbiamo fatto non soltanto in ambito fotografico ma in ambito ottico e neurologico quindi non siamo di esperti di di ottica tanto meno di neurologia però ci è servito affrontare con dei specialisti anche questo tipo di materia per capire come il cervello interpreta le immagini stereoscopiche e da qui è nato un progetto che va scattiamo circa 3 4 immagini all'anno e quindi insomma questo è un progetto continuativo poi uno che è nato ieri una cosa molto molto recente un progetto che faremo con una cuoca vegana molto molto brava è un progetto che è stato concepito in epoca non sospetta sono diventato un po' una moda sia anche perché adesso ormai tutta l'attenzione sul cibo l'avevo concepito già sei anni fa però sei sette anni fa però non c'è stato mai il tempo ieri ci siamo incontrati finalmente e svilupperemo questo progetto sui semi qui si tratterà di macro fotografie sui semi quindi un oggetto che solitamente viene comprato e cucinato non viene guardato in realtà il seme dal più piccolo i fagioli i ceci le lenticchie eccetera sono estremamente interessanti anche come oggetti e quindi ci interessa affrontare questo tipo di progetto con la macro fotografia per andare a vedere all'interno poi chiaramente saranno una serie di informazioni magari saranno le ricette uscirà fuori un libro una mostra adesso vedremo che cosa questo è recentissimo progetti come puoi immaginare ce ne sono a decine non tutti riusciamo a portarli avanti contemporaneamente per il tuo tipo di fotografia immagino che sì la fotocamera è una parte fondamentale ma altrettanto fondamentale sarà la luce immagino perché comunque illuminare il cibo il piatto e tutte queste cose è molto complesso te come affronti questo argomento la luce è chiaramente fondamentale diciamo noi io non pretendo di rappresentare un qualcosa di reale cioè quindi un piatto una materia prima per quello che è nella realtà ma per quello che voglio far vedere quindi in base sono un fotografo pubblicitario quindi la logica è sempre quella per cui cerco sempre di renderlo più fruibile possibile al nostro al nostro spettatore quindi l'uso delle luci è fondamentale anni che usavo broncolor come come brand e quindi adesso con il diciamo col lavoro che stiamo facendo con la fova university mi trovo particolarmente a mio agio perché continuo a utilizzare le macchine le macchine quindi immagino non due semplici punti luce ma cose molto complesse sì in realtà in realtà sono partito con tanti punti luce pure troppi ecco e sto procedendo per sottrazione adesso ultimamente sto lavorando molto bene con i siros che oltretutto mi consentono di lavorare anche in esterni non soltanto anche presso il locale presso il ristorante presso il luogo di produzione la fotografia perché i siros sono dei monotorcia senza cavi e quindi riesci a essere più agili eccezionali con un corredo infinito di softbox snoot parabole e quant'altro quindi dato che il nostro è un approccio di design quindi di progetto non parliamo soltanto dello still life finito quindi non c'è solo il piatto finito ma c'è tutta la storia relativa a quel piatto o a quella linea diciamo di cucina di un ristorante o di uno chef e quindi è particolarmente importante riuscire ad avere un qualcosa che controlli che posso portare per i viaggi che faccio in italia all'estero e soprattutto per il location senza avere i cavi in giro questo è estremamente interessante e molto spesso si riesce a lavorare anche con due siros con dei riflessi eccetera riusciamo a ottenere degli risultati eccellenti chiaro che poi il mio mondo certo immagino quando hai più tempo e quando posso tiro fuori tutto quello che c'è generatori e quant'altro ecco quindi la gamma brown color fortunatamente ha veramente delle macchine straordinarie quindi tra l'altro tutte gestibili attraverso un'app per cui veramente ti trovi a giocare a scattare col telefono ecco un paradosso ma non fai le foto col telefono le impostazioni puoi fare estremamente facile da utilizzare esatto bene senti qui solitamente facciamo vedere un po cosa c'è nel tuo zaino cosa ti porti con te le luci ormai l'abbiamo smascherato perché sarebbe stato un po scomodo portarmele ma chi ci segue è interessato a sapere cosa ti porti te sempre con te vedo che hai una borsa un po diversa dal solito non è uno zaino fotografico ma è un bel case storico asseblad sì ecco questo è la borsa asseblad quella che hai con la macchina fotografica poi di solito la lasci in uno scaffale perché invece la uso per andare in giro e non è particolarmente comoda perché mi ricorda le vecchie borse dei fotografi infatti io dato che sono di una volta anch'io per questo motivo ho apprezzato apprezzato particolarmente questa cosa è una borsa abbastanza protetta è chiaro che va in giro con il marchio assebladone cioè questa è una borsa che di solito le foto che faccio io sono prevalentemente in studio e quindi ho presso una location non sono in giro che non ho pericolo che qualcuno me la porti via sì innanzitutto c'è la mia c'è la mia x1d quindi sei andato su una mirrorless medio formato sì io sono assolutamente un sostenitore del medio formato del medio formato da sempre immagino anche un po per la qualità del file di quei bisogni anche per stampe cose di questo genere molto spesso ci troviamo anche a lavorare in estrema velocità noi abbiamo necessità di dover fotografare dei piatti che poi devono essere restituiti come immagine da un punto di vista cromatico perfettamente anche perché si smontano i piatti si smontano molto in fretta e poi devono essere soprattutto i colori c'è una fragola deve avere quel colore lì la carne deve avere quel colore lì se cambio il colore la carne non è più commestibile quindi il colore naturale di asseblad ti aiuta sì moltissimo soprattutto anche il file che ne scaturisce mi dà la possibilità poi di intervenire un secondo tempo in post produzione e ottenere poi il risultato che voglio ottenere anzi di solito lo miglioro chiaramente quindi questo caso è montato un 45 45 mm che a me piacciono gli esperimenti l'ho provato ho usato 120 macro che dovrebbe essere solitamente mi immagino quel tipo di fotografia con un obiettivo macro sì dovrebbe essere l'ottica che si utilizza in questi casi e l'ho usata per anni recentemente per scherzo ho cominciato a provare il 45 e funziona che su un medio formato poi è un intorno ai 30 35 queste queste l'uso quello sì uso questo non conosco tanto i parametri e comunque inaspettatamente il 45 funziona molto bene chiaro che non posso fare fotografia macro per il progetto macro avrò poi il 120 ma in questo caso qua il 45 è perfetto per il location utilizzo il 30 ok si uscirà arriverà al 21 quindi sarà ancora più contento di utilizzarlo oltre la camera o immagino che sì in realtà non mi porto mai dietro tanta roba perché poi ho tante scatoline e scatolette poi immagino che dipenda tanto da cosa vai a fotografare prima ancora prima ancora della camera c'è ci sono i penarelli questa è una cosa che è sempre come quindi disegni il piatto esatto disegniamo il piatto prima quindi studiamo il design del piatto prima di fotografarlo e quindi facciamo una sorta abbiamo queste penarelli che sono specifici con decine di colori varietà colori molto molto vasta ecco e quindi ci dà la possibilità di studiare assieme a monte dell'incontro con lo chef ma soprattutto con lo chef quelle che possono essere le disposizioni sul piatto del singolo dei singoli ingredienti quindi è molto importante riuscire colore per colore andare a posizionare il punto giusto spesso facciamo delle fotografie con delle sovrapposizioni su vetri soprattutto quando lavoriamo sulla materia prima eccetera quindi è importante sapere che lì ci sarà un arancione ci sarà un rosso ci sarà un verde e così via e di conseguenza preparare quindi ti aiuti prima il bozzetto prima che per me è fondamentale non riusciamo noi lavoriamo sempre per progetto non riesco mai a fare la fotografia così di botto distinto anche perché lo stile iphone funziona così non è possibile farla poi magari ti va bene ma è difficile poi non so ecco una slitta che ci serve per micrometrica che si utilizza anche in macro fotografia per avvicinarsi allontanarsi dal soggetto senza cambiare il fuoco direttamente sulla macchina e poi ecco una cosa fondamentale che ormai è anni che con me e lo tengo sempre è il colorimetro ok questo è il color checker questo è fondamentale perché dobbiamo poi magari scattiamo in condizioni di luce nonostante i nostri brown color siano perfetti ma spesso ci sono le luci parassite dei riflessi all'interno dei ristoranti luce al neon, luci verdi, tovaglie rosse, muri arancioni o bianchi, pavimenti neri che riflettono e quindi modificano l'assetto e quindi per me è molto importante poi andare a identificare quello che è la gamma colori giusta poi ecco il cavo di collegamento questo è il cavo tra la macchina e il tuo computer sì esatto quindi immagino che il cavo lungo ti serva per tenere la macchina magari sul soggetto, sul piatto, su quello che stai fotografando ma poter stare dietro a una regia sul tuo computer a mettere a posto tutto quello che... non siamo sempre in studio spesso siamo in location presso il cliente e quindi le condizioni però logistiche non sono magari ottimali per cui il cavo mi serve per connettere io utilizzo Focus come software che è il software di Asseblood di Asseblood di connessione che è quello che finora mi ha dato le migliori performance che se non sbaglio su Focus adesso è possibile anche gestire direttamente dal software le luci brown color sì esatto esatto io lo faccio su iPad a parte perché utilizzo il software direttamente su iPad però volendo direttamente da Focus potrei farlo sì sì infatti altre cose che... i tuoi tool? quelli che... non so se... a Bologna chiamano ciappini cioè una scatoletta con dentro tutto quello che può servire all'ultimo momento quindi viti, vitine, riduttori per gli stativi fondamentali sì sì tutte cose che... cose che poi ovviamente ti dimentichi su sette per... sì infatti queste sono... è considerato materiale di consumo vabbè abbiamo le schede che adesso... insomma... conserva all'interno di questo oggetto qua e poi vabbè un piccolo tripod che può servire a volte scattiamo... utilizzo brown color in preferenza... le luci flash in preferenza perché è quello che mi serve per il food talvolta utilizziamo anche luci continue quindi LED luci LED e allora magari vicino al piatto in prossimità di un oggetto di una materia prima eccetera avere anche un tripod può essere interessante più piccolino, leggero e sta all'interno della... e poi ci sono altre cose carica batteria beh immagino ci siano anche le cose che non possiamo far vedere sì qualcosa i segreti del professionista se non sbaglio sulla FOVA University sulla piattaforma sono disponibili alcuni tuoi laboratori sono dei laboratori di più giorni perché con i tuoi allunni, i tuoi allievi, i tuoi seguaci chiamiamoli come vuoi fate proprio in pratica tutto il lavoro che sta dietro alla fotografia di food certo certo cerco di raccontare e di trasferire tutte le informazioni senza segreti appunto in questo caso la maggior ragione hai abbattuto tutti i filtri sì no ma non è... il concetto è quello di sharing non è quello di... quindi vorrei che tutti si mettessero in condizioni potendosi permettere poi l'attrezzatura che è necessaria ma fossero in condizioni poi di scattare una bella foto ma significa anche scattare una bella foto quando poi sei al bar e magari hai la tazza del caffè, la brioche la tovaglia giusta, la luce che entra dalla finestra e dici come faccio a bilanciare questa luce allora ti viene in mente che magari io ti ho raccontato di mettere un tovagliolo bianco fuori campo che riflette la luce ecco questo è un piccolo trucco che però magari si serve per portare a casa anche la fotografia diciamo... quindi non è un laboratorio per professionisti è per fare il professionista sì anche ma è anche... anche per il professionista ma sono anche tanti trucchi che possono servire il laboratorio si sviluppa su due giornate una giornata prevalentemente di teoria dove però programmiamo sempre un'uscita anche presso i mercati della zona andiamo a visitare i mercati perché food non vuol dire soltanto come dicevo prima fotografia still life del piatto o della materia prima ma significa anche luoghi di commercializzazione anche luoghi di produzione potendolo fare in alcuni casi non è escluso che potremo anche andare a visitare luoghi di produzione o di allevamento diciamo per l'agroalimentare quindi il tuo laboratorio è rivolto a amatori quindi chi inizia in questo mondo che è interessato alla fotografia di food ma anche a blogger perché oggi uno dei grandi canali di condivisione di questo tipo di immagine sono i vari social o i vari blog che parlano di cibo, ristoranti e quant'altro dove si nota un certo appiattimento dell'immagine perché viene riferita di solito alla tipologia di immagini cosiddette editoriali cioè quelle impostazioni classiche del piatto con la forchetta il tovagliolo, il bicchiere, il fiorellino eccetera a me questo tipo di impostazione interessa fino a un certo punto il focus deve essere il piatto poi dopo impari a fare lo stylist e lo fai ma è un altro mestiere il nostro mestiere di fotografi è quello di fotografare il soggetto deve saltar fuori quindi noi ci concentriamo principalmente su questa parte dicevo una parte teorica il primo giorno più teorica con qualche uscita pratica e una parte in studio con allestimento di due set almeno due set differenti uno dove utilizziamo la luce flash quindi brown color tutte le luci che abbiamo a disposizione quindi si possono provare le luci se non altro e comunque ottenere il miglior risultato e un set invece di luce continua che è la condizione magari più amatoriale se vogliamo per certi casi ma addirittura anche nel nostro caso come dicevo prima a volte io utilizzo anche la luce continua quindi una luce elettrica una luce fredda che consente di avere anche dei buoni tempi di ripresa senza che il gelato si squagli o il prodotto si ossidi eccetera e quindi sono set molto più semplici da realizzare che però è interessante capire come realizzare al meglio allora invito le persone che ci seguono a visitare la FOVA University e trovare i tuoi corsi i tuoi contatti, il tuo sito, i tuoi riferimenti social li trovate qui sotto Roberto Savio vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato ringrazio te Roberto per averci raccontato il tuo mondo di fotografia di food grazie a te grazie a tutti